Benvenuti in questo nuovo video di GTA 5 E quest'oggi continuiamo con la nostra nuova attività Il nostro bar E quest'oggi faremo la prima missione E vedremo come andrà la campioncini gang E sono abbastanza preoccupato Perché secondo me andrà malissimo Considerando anche il primo episodio Però qualche soldino ce l'abbiamo Con questa attività possiamo guadagnare altro Sperare di ottenere lavori migliori E una vita migliore Non star più in una catapiche del genere Però per adesso dobbiamo contentarci Quindi vediamo come va Affrontiamo quello che dovremo affrontare quest'oggi E let's go Signori quest'oggi noi affronteremo la nostra prima missione E c'è Nat che tipo sta sbadigliando È un ottimo inizio Allora Dobbiamo fare le cose seriamente Dobbiamo andare lì Spaccar tutto Fare un sacco di soldi Non so niente che dobbiamo fare sinceramente Però adesso mi alzo e controllo il tabellone Guarda com'è gasato Stefano Allora Vediamo un po' cosa possiamo fare Accedi alle missioni Allora Dici dici Possiamo Usato garantito Le vediamo anche noi Cercasi in moto Presta pochista Non so cosa voglia dire Cercasi Operazione di salvataggio per un idiota Che si è cacciato nei guai Pagamento non appena respirerà aria di libertà Questo raga dovremmo prendere un prigioniero Ok Questa mi sembra esagerata Questa mi sembra esagerata Questa pochista quindi voglio fare quella Io ascolto i membri Quindi presa questa Elimina i bersagli Andiamo Forza 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 Allora Se vi avvicinate Chi è che non riesce ad allinearsi Ma guarda Indovina Belli Ma che team è questo Ma siamo Se premete M Dovreste poter decidere anche il mood con il quale voi andate in giro Se essere rilassati, normali, arrabbiati Sì mi aspetta Dov'è il mood? Come si fa? Anche lo voglio Allora Non ce l'ho Così Allora devi impostare tu Steph Per tutti Ok Stile dell'MC Decora Ok Bello Belli raga Questo Questo è Belli Da centauri Ok Mi piace Vai Poi siamo tutti d'accordo Più di così ragazzi Seguitemi Andiamo 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 Forza forza Allora Credo che abbiamo una cosa di formazione Vedete il mio cerchio Nella minimappa Sì Di questo cerchio abbiamo tipo un bonus Vabbè Ok Quindi vi sto aspettando Ci siete? Sbagliando Devi andare al contrario No Sì A destra A destra Raga Vi seguite per favore Ma a me dice che devo andare dall'altra parte Raga Raga ho fatto un incidente Aspettate Non è che ognuno ha il suo bersaglio? Eh mi sa di sì Allora Il mio è a Palito Bay Eh no Il mio è a 5 km e mezzo Ok Pedalate Ognuno per sé Siamo a 5 obiettivi Mi sembrava strano Steph Dicevo cavolo è da tutt'altra parte Ok Piano piano già arrivo Ma era in città Da me Anche da me era in città Il mio è nelle colline ragazzi Steph Da me in città Sto facendo le discese ragazzi Muoio No 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 Come hai fatto Steph? Steph No come è morto È morto? No raga Dobbiamo farlo nel suo posto adesso Ha preso il cespuglio No Stato di imbecille Porca miseria Ma dico io Non ci sono Io sono vivo eh Però dovrei trovare la moto Un attimo Ah ragazzi Io sono arrivata Però aspetto Aspetto voi Ah ma io devo rubare un pullman Abbastanza vicini Comunque per chi ricorda GTA Questa non è una coincidenza La mia prima missione Palito Bay Eh Steph Mi sa che dobbiamo farne subito In realtà le missione Perché mi dice Elimina il bersaglio Con un autobus Autobus Io con un tubo bomba Sì io ho un autobus E ho un puntino rosso Adesso vado a farlo ragazzi Perché sennò mi scappa Il bersaglio Ragazzi ho un tubo bomba Che cos'è un tubo bomba? Non lo so Raga Ma si sta divertendo in piscina Con gli amici E li devo tirare La tubo bomba Ma no Le l'ho tirata È morto Aia Finita Elimina il bersaglio Con un autobus Perché ho l'obiettivo di Marci Perché gli puoi dare una mano adesso Ok vado da Marci Infatti guardate Guardate in basso a destra Tre obiettivi sono fatti Manchiamo io e Marci Ok vai vai ragazzi Eh ragazzi Io l'obiettivo di Steph Adesso ha palito Bay Però non mi conviene Andare lì Eh Io in realtà ho difficoltà qui Vengo da te Ma sono lontanissima Steph Sei a 11 km 10 km Allora Ferre Magari ci riuscirò Ma per adesso Non si capisce dove devo andare Io inizio ad avviarmi Dai Steph Esatto anch'io Purtroppo io non ho più la nostra moto Ma la mia domanda è Chi è che ha Clack in Bell Farms Io Ok devo arrivare Anche io Anche io No ho domande tutti da Steph Ragazzi Perché non ha fatto l'obiettivo Quindi io vi dò l'obiettivo di Steph L'obiettivo di Mark E Clack in Bell Farms Io lo faccio l'obiettivo Scusa Penso di Steph Ragazzi aspettate un attimo Forza Steph Fatto Ragazzi c'è gente a bottiglia Che mi vuole far fuori Scappa Steph Riprendi la moto e scappa Mi ha pagato 10.500 Anche a me 10.500 mi ha dato a me Raga Anche a me 10.500 ragazzi Eh no volevo dirvi Che qui ne abbiamo dato 50.000 Da sta missione È tantissimo E a me soprattutto Lo sapete che sono rimaste 18 molotov gratis Wow Cioè che non so voi Ma io non le butto Cioè voi magari le buttate Io le cose per strada Non le butto Io non imprino E sono rimaste le tubobomba Vedi A me hai matato la baseball Dai Beh Che fortuna Comunque Io non la butto Ci ritroviamo alla clubhouse Sì io sto tornando ragazzi Che ha fatto ragazzi Era una tubobomba Vedi che ha ucciso tutti Tutti E vi rubo anche i soldi Ma Farina è morta Ma scusatemi Oh tipo uno di vita ragazzi Conviva Ma non ci siamo tutti insieme Ma in tutto ciò Il nostro giovane campione Beppo Falso presidente qual è Non so come spiegarvi Ma ragazzi non si può uccidere Avete presente il Po? C'è il Po? No la mia moto Ragazzi guardate che condizioni sono Guardatemi i vestiti L'ho visto Io sono diventato orribile Beppo Ma cosa che è la mia moto? Fermo Era la tua moto Allora Eh no Nat scusami Mi dovete fare una promessa solenne Vai Quando io arriverò Ma dov'è? Non mi farete domande Ok Raga dove? Ma aprite la mappa Vai a 50 km 50.000 km No No raga non arriverà mai Ricordatevi la promessa Io sto arrivando Ok Sono praticamente qui No ragazzi No ragazzi Ragazzi L'avete promesso Walter White Ragazzi Come è andata la giornata? Non voglio giudizi No Era l'unica cosa in mezzo al Po Non ci poteva far nulla Lo sai che è stupenda vero? Io sono innamorato di sti cosi No Steph Forza andiamo Ma perché? Andiamo dentro forza Allora ragazzi Adesso liberiamo il prigioniero dalla prigione Che secondo me dobbiamo farla tutti assieme Ok perfetto Vai 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 Forza forza campioni Già fatto Già fatto Andiamo Andiamo Buongiorno Buongiorno Nat Hai dormito bene Nat? Nat tutto bene? Come va? Salva il cliente Salva la mente di Nat Salva Nat Salvatevi subito Allora richiedi moto Allora ok richiedi moto Che si chiama Rat Bike C'è lo dice tutto Facciamo anche la partenza Non c'è la formazione Pronti? La formazione vai Andiamo Ok Via Siamo in formazione? Sì Ma come pulsa quando siamo tutti vicini Andiamo andiamo È odioso camminare vicini ragazzi Io ve lo dico Però se non è vera gang Io pure ci chiamo a tennis con Nap Raga ma avete fatto fare incidenti Io non mi so porto Raga ora seri Siamo arrivati Formazione Serissimi Voce seria Fatemi sentire voce seria Siamo ragazzi Siamo arrivati Allora A ore 14 e mezzo Ci sta un anatroccolo E 15 secondi E 15 secondi Ok parcheggiamo da bravi motociclisti Quali siamo Forza forza Camminiamo Non facciamo le Raga io credo Cioè non so come approcciarci Per ora andiamo camminando tranquilli Ho un modo per aprire la porta Cioè però noi siamo I motociclisti che vanno alla stazione di polizia Per fare una denuncia Quindi non c'è bisogno di sparare o altro Io vorrei denunciare Steph Vedete No no Ok stanno ando liscio per ora Ok Continuiamo a camminare Ci fanno entrare così Loro Beh certo Non stiamo facendo niente di illegale al momento Allora sì Ora sì che è illegale Porca miseria Fugata ragazzi Sto morendo Raga Raga Tutti con dalle la porta Ragazzi Non vogliono Io sto guardando il fuori Più di così non posso fare Ragazzi Dobbiamo trovare È al pieno di sotto Non so cosa voglio dire Ah sì di questo Io Ho chiarato Sette colpi Ho sette colpi Ragazzi Io sono morto Ok Con calma Vai Nat Vai Ok Grande Nat Nat si sta guadagnando il vicepresidente In questo momento Bravo No Se dunque potete trovare munizioni a terra Ok Uccisi tutti Sono poca vita Ragazzi Ok Ok Allora salve signore Tutti con la porta Trovo modo per aprire la cella Le chiavi magari Steph Cerca delle chiavi Non c'è niente Raga qua c'è una Ci sono delle chiavi qua Lo trovate Le ho prese Grande Grande marci Ok Vado giù Vai giù Veloce raga per favore Ragazzi abbiamo staccati tutti Porca miseria Abbiamo fatto un disastro qui dentro Allora Abbiamo due stelle di pulizia Raga ma siccome in questi casi dovremmo perdere tutti i nostri soldi Perché questa è una missione Non è pure No è una missione Ok ho aperto Fuggi Bisogna fuggire raga No dobbiamo portare il cliente Ci sta seguendo No Si dovrebbe seguirci A segue me Ok Campione di venire Sì marci Vai avanti Ti segue Ti segue vai Ci siamo Sì 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 Abbiamo una macchina da quattro ragazzi Da cinque C'è una macchina La polizia Allora marchi Mi riesce a coprire Io ne prendo un'auto Dovete coprirmi ragazzi Ok Vai Sali 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 No Aspetta Fate salire Marci Neve Sperate tutti quelli che arrivano Ragazzi Sali Ok Vediamo se entra Vediamo se entra Vai Ok Ci siamo Ci siamo Non sparare più Ora dobbiamo perdere le stelle Raga da ora in poi sono stelle di polizia che contano anche per perdere soldi Esatto Perché ora è polizia in giro Allora ce li abbiamo tutti dietro noi Non ci vanno via noi Non ci vanno via Fatto Fatto Andate Ok perfetto Ok vai Ok pensate a voi stessi ora Ok anche noi sono andati via raga Però sono andati via voi anche noi Ah è vero ce l'ha contato Steph Ottimo Ah ma dove lo stiamo portando A un rifugio particolare penso Steph Non al nostro club Sicuramente 23.500 23.500 23.500 Che bello Sì anche a me No va benissimo raga non vi lamentate Aspettate che lo segno nel mio taccuino Sono buoni va tutto bene Per 5 devi fare Per 5 Più i 50.000 Cioè abbiamo fatto tipo 170.000 Ok Wow La statunità di club così vale un sacco Cioè contanto che abbiamo preso anche un club a zero E tutto guadagno Mamma mia ragazzi Io sono veramente contento Come che si fa Si farmano in fretta dai pochi di soldi Assieme Sì 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 Fra un po' possiamo comprarci qualche attività Di quelle che farmano su lungo termine Tipo la produzione di soldi finti E questo genere di cose Bravi Quindi Raga stra top Fra un po' ci compriamo anche casa Allora È ufficiale Ad oggi Io lo dico Queste cose Non sono perenni Vicepresidente Nat Potrebbero cambiare Permanenti Grazie Enforcer March Ci siamo ragazzi Indovinate chi manca nel quadretto Perché io l'ho messo Condannata a morte Non l'ho messo Sarebbe in tale armi Bellissimo Aspettate Aspettate Mi sembra un po' arrabbiato Guardate È comparso Puoi anche togliermi Guardate che bellini A me Road Captain Mi fa ammazzare Io sono felice del mio ruolo Ragazzi Chi è vicepresidente? Dov'è Ma ci Stanno litigando Vieni fuori Vieni fuori che ti imbessi Vai andiamo fuori Vai C'è un asciugamanino A forma di bandino Sto aspettando Nat Questo Questo qua Per quando tryhardiamo? Esatto Ragazzi Dite Nat di uscire per favore Raga Vuole morire Io non accetto queste sfide Raga basta Ci fermiamo La gang deve sopravvivere Quindi niente litigi del genere Speriamo che questo video sia piaciuto Sotto come altri video Iscriviti al canale Campellina E ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao Ciao